Maneggiare con cura nel senso più vero del termine. Questo è il pezzo forse più pregiato della Pinacoteca, colazione in giardino del maestro dell'impressionismo Giuseppe De Nittis. Le altre sue opere non sono da meno. In tutto 32 quelle che partiranno alla volta degli Stati Uniti. Le operazioni, delicatissime, si concluderanno nei prossimi giorni. Il Palazzo della Marra, ora blindato, riaprirà il primo novembre completamente riallestito con i quadri dell'artista meno conosciuti custoditi nei depositi. Diciamo che è solo un viaggio di qualche mese che il nostro De Nittis farà in quel di Washington per poter essere ammirato dal pubblico americano e dai turisti di tutto il mondo che a Washington vorranno visitare il The Phillips Collection Museum. E quindi per noi è un piacere. Ecco, c'è comunque, sai, un po' di emozione vederli partire. Però a febbraio torneranno nel nuovo allestimento, torneranno qui da noi. Nel frattempo rimarranno vuote queste sale? No, assolutamente no. Ci sarà un nuovo riallestimento e dei 32 quadri che partiranno ce ne saranno altrettanti, sempre di De Nittis, oggi nel nostro deposito. E quindi un nuovo allestimento che i cittadini potranno vedere sempre del maestro Barlettano.